È stato il fondatore del fascismo, il capo del governo. È senza dubbio il personaggio del momento. Il vostro nome? Benito Mussolini. Il mio obiettivo è di viaggiare per l'Italia e di riconquistarla. Sareste d'accordo su una dittatura? Ma una dittatura libera però. Una dittatura non troppo dittatura. Benito. Mussolini è occupato. Ma Dux 2018 è libero? Io non sono Dux 2018. Superuomo. Preso. Camicia nera. Eccellenza lui. Preso. E che cazzo? E che cazzo è libero? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone. Che razza di persona sei? Convincente. Votate, votate, votate. Ma che serve votare se voi non avete la minima idea di quello che fanno i politici? Che voi avete votato. Grazie a tutti.